Ciao a tutti dal Piero della Francesca, oggi voglio affrontare un discorso un po' particolare particolare perché? Perché l'altro giorno guardavo un video ragazzi di 20-22 anni, 23 anni, dai 22 ai 32-33 anni che aderiscono ai gruppi Free Child cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono gruppi di persone che non vogliono figli si fanno sterilizzare, si fanno vasectomizzare ma come cazzo fai a 20 anni a sapere cosa vuoi a 40? io ho un figlio di 26 anni, va per i 27 e pensavo, dopo aver avuto mio figlio dopo mio figlio ho sempre pensato che non volevo più figli perché il mondo è una merda perché il mondo è una merda e il futuro potrebbe essere veramente pericoloso per un altro figlio sono arrivato oltre i 40 che vorrei un altro figlio purtroppo la situazione mi porta a dover rinunciare a questo sogno perché? Perché sarebbe una situazione quanto pericolosa per la mia compagna che non ha più 40 anni, è più grande di me voi capite che una donna di 50 anni non può affrontare una grananza soprattutto qui in Germania, qui in Germania dopo i 50 se partorisci ti tolgono il bambino quindi mettere a mondo una creatura per farsela togliere mi sembra stupido mi sembra stupido che a 50 anni la donna possa partorire nel senso che il bambino poi dovrebbe chiamarla mamma o nonna cioè questo voglio capire a 50 anni si diventa notte, non si diventa genitori ma questo gruppo Free Child, io sentito le loro motivazioni sono le loro motivazioni sono veramente stupide, stupide loro non vogliono figli perché vuoi mettere ad andare a Formentera o andare a Ibiza senza avere un figlio in mezzo da guardare i pannolini a cambiare, devi starvi dietro e non riuscirei a dormire non ti godresti le vacanze e mentre tu ti fai il bagno in mare lei guarda il bambino, mentre lei fa il bagno in mare tu guardi il bambino sono queste le motivazioni, forse è meglio così forse è meglio così, gente così non deve avere figli non deve avere figli, i figli sono un dono divino e gente così non deve avere figli, non sono in grado di poter dire le cose, fatevi sterilizzare tutti, voi che siete Free Child fatevi sterilizzare tutti perché voi non meritate un dono così grande come quello di un figlio non meritate di avere una gioia così grande vivo questa cosa intensamente perché vorrei avere un figlio e non lo posso avere vivo nei ricordi di mio figlio bambino vivo con serenità e con felicità il fatto che mia sorella è diventata mamma è diventata mamma da poco, quindi vivo questa gioia vivo una gioia che non ha parole, che non vi posso spiegare perché sono in gioia che non hanno modo di essere spiegate però credetemi, questo è Free Child fatevi sterilizzare, voi non meritate una gioia del genere assolutamente non la meritate ciao a tutti dal Piero della Francesca vi do un grande abbraccio, un grande saluto, un grande bacio oggi i camionisti che arrivano, vabbè va bene un grande abbraccio, un grande abbraccio, un grande saluto dal Piero della Francesca lasciate un like a questo video, condividetelo se conoscete qualcuno che fa parte del Free Child, che non vuole figli consigliategli la sterilizzazione datemi retta, consigliatela perché gente così non merita una gioia così grande ciao a tutti dal Piero della Francesca